Giuseppe Oddo, Pino secondo te che traumi può aver avuto la gente ascoltando Bello Figu? Che ne so io, chi è Bello Figu? Secondo me hai subito dei traumi e ascolti Bello Figu, non è che ascolti Bello Figu e ti vengono dei traumi Ah sicuramente, ma è uno di quelli nuovi, quelli che mai sentito, ieri ho sentito una roba, ero lì su Capital mentre andavo a fare la radio ieri sera Ho sentito una e mi hanno detto che, e diceva che era il figlio di La Russa, che è un trap, che è una di questi Sì, che ha fatto una canzone in cui dice che è tutto fatto, insulta le domande Il figlio di La Russa, immagina La Russa, non mi cazzo è messo, che se ritrova uno così in casa Io sarei curioso di sapere Vedete che Dio ogni tanto punisce poi Sarei curioso di sapere quando ha letto i titoli sui giornali, sono fatto, sono strafatto, il mitico Ignazio La Russa Un politico di quali sei, eri grande Ah 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 Grazie a tutti